Una partita, una domenica per ricordare anche la vostra storia sportiva, no? Sì, è stata una cosa abbastanza anche toccante per chi come noi l'ha vissuta in prima persona. Rivedere nel campo tutti i giocatori che sono passati negli ultimi dieci anni dalla SBA, rivedere anche giocatori stranieri che dalla Slovacchia sono venuti per questa partita, è stata veramente tanto. E poi rivedere questi giovani talenti che sono passati qui da noi e che adesso giocano in Serie A, in Serie B, e vedere che per questo giorno sono tornati appositamente solo per passare una giornata insieme a tutti gli altri, è stata veramente molto bella. Devo dire che era tanto tempo che non c'era un po' di emozione così. È stata l'occasione anche per salutare Cudini, insomma, l'ultima volta che avete avuto questa possibilità. Sì, è stata una colonna della nostra società per oltre 15 anni, lui ha giocato in tutte le categorie, Serie B, Serie C, Serie D, quindi abbiamo colto l'occasione di questa festa per ringraziarlo, è stata fatta anche una premiazione, è stato veramente molto bello vedere anche tutti i compagni, tutti ad applaudirlo. Va sottolineato come anche tanti ragazzi del mini basket, sono venuti qua per vederli giocare, per vedere lui per l'ultima volta. Quindi questo ci fa tanto piacere perché lui deve essere preso ad esempio da tutti i ragazzi che scelgono di giocare con noi. Si esce da due anni difficili, Presidente, però ne siete usciti davvero a testa alta e insomma Rezzo TV è sempre con voi, abbiamo cambiato il nostro canale ma abbiamo visto che insomma ci stanno comunque seguendo anche in questa nuova avventura. Sì, diciamo che proprio per questo, essendo voi sempre stati con noi fin dall'inizio, ti do anche queste piccole novità. Allora, considera che non so come sono le altre società, però noi abbiamo avuto veramente un successo impressionante perché i numeri degli iscritti adesso che è finita la stagione hanno superato e anche di gran lunga gli iscritti della pre-pandemia. Si sta quasi toccando i 400 iscritti, una cosa che mai era capitata e la cosa che probabilmente deriva anche dalla pandemia è il fatto che molti ragazzi non più piccolini ma di 16 anni, 17, anche se è un po' difficile a quell'età integrarsi con squadre già avviate, ci hanno riempito gli spogliatoi, non solo. E da quest'anno per la prima volta è partito veramente il programma femminile. Quindi noi probabilmente la prossima stagione partiremo subito con due squadre femminili, tantissime bambine e ragazzine sono venute a praticare questo sport e per noi è una gioia perché erano tanti anni che volevamo. Come ho detto anche ad altri c'è anche un lato negativo in questa situazione perché la nostra società, e penso come tante altre società che creano giocatori per poter fare a meno di andare a comprarli da fuori. Creare un giocatore in casa significa investire sul giovanile, avere buoni allenatori, avere strutture. Poi quando arrivano all'età in cui dovrebbero entrare nelle prime squadre, purtroppo per noi e per fortuna per loro, ma vanno ovviamente all'università nelle città dove c'è. Noi ad Arezzo, come al solito, siamo sempre indietro. Io spero che questa facoltà che hanno aperto possa portare qualcosa, ma la vedo un pochino difficile, però penso che anche per lo sport a livello proprio generale, non solo per la SBA, credo che l'università o almeno una parte, insomma alcune facoltà sarebbero una manna dal cielo perché veramente noi stiamo soffrendo tanto questa situazione. Formiamo giocatori, al momento che sono pronti se ne vanno a giocare a Bologna, Firenze e in altre realtà. Ne abbiamo fuori sei o sette, potevamo già fare una squadra con loro e purtroppo questo per noi è un grande problema. Questa è la cosa negativa della città.